Manzulli, vice sindaco, ci sono i diversamente abili, guardate, guardate, questo è il vice sindaco di Taranto che scappa rispetto ai problemi dei disabili, vieni qui, vieni qui, tu sei il vice sindaco, lei faccia il suo dovere, lei faccia il suo dovere e faccia il vigile, non faccia l'assistente di Manzulli, qual è il suo compito, fare l'assistente di Manzulli, lei faccia il suo compito, ora abbiamo i vigili che fanno pure i portavoce dei vice sindaco, allora, guardate come va via, questo è il vice sindaco di Taranto che va via con i diversamente abili sotto azione, allora qui non vogliamo speculare, non vogliamo speculare, però vogliamo di rifarti come Stato, perché in campagna elettorale si sono serviti dei diversamente abili, non lo offendiamo, allora, ritornando, questa è la prova ulteriore dell'assenza continua della politica. A meno non ci ha manco salutato, è evitato, è evitato, è evitato, è evitato. Prima ancora che una pesante, una grave mancanza istituzionale, credetemi, è proprio una mancanza di rispetto umano, umano. E lui lo diceva, vedi che l'assessore, se mi sono senso, è arrivato.